Potenziamento della pneumologia interventistica al presidio ospedaliero di Eboli con una nuova colonna endoscopica Olimpus 190 con tecnologia NBI, capace di evidenziare la neoangiogenesi nelle fasi iniziali della neoplasia del polmone ad origine centrale dei grossi bronchi. Con la nuova tecnologia Eboli si conferma come centro di alta specializzazione, punto di riferimento per tutta l'area sud di Salerno nella diagnosi del tumore del polmone. Il dottore Damiano Capaccio, direttore dell'unità operativa, ha espresso vivo ringraziamento al direttore sanitario Mario Minervini e al dottore Andrea Giannattasio della direzione amministrativa per l'impegno nell'implementazione di nuove apparecchiature ad elevato contenuto tecnologico che rafforzano il ruolo del presidio come struttura specialistica. Grazie